Siamo qui con Salvatore Giuliano, nuovo consulente tecnico da Ria Fuzzacca Soria, che esordio. Semifinale playoff, una bestia nera come il Procida ha battuto per 5-4, adesso c'è la finale, cosa pensi della partita? Della partita penso il risultato è mai in discussione, abbiamo dominato, lo posso dire sinceramente, un plauso ai miei ragazzi che in un mese hanno preso 80% del mio sistema di gioco, perché comunque loro giocavano in un modo diverso, adesso si è visto, sono contentissimo. Mi fa piacere per questo tabù sfatato, perché il Procida era la squadra che è venuta a pareggiare e qui ha vinto in casa sua, e adesso ci siamo tolti quel sassolino. Adesso, sabato prossimo, c'è la finale con Real Patria, come la preparare? Soprattutto è stato un bene, da un punto di vista logistico, posticipare le post-season? Hai avuto più tempo per conoscere la squadra, hai avuto più tempo soprattutto per imporre le tue idee? Sicuramente sì, è stato sicuramente un bene da parte mia, perché comunque ho avuto possibilità di lavorare un mese con questi ragazzi che ripeto si sono messi a disposizione, è un gruppo di ragazzi veramente splendidi, mi fa piacere stare qui, è un ambiente veramente splendido, oserei dire. E per la prossima partita ci prepariamo come ci siamo preparati fino adesso, venderemo cara alla pelle, è inutile dire, noi lottiamo per la C2, lo possiamo dire tranquillamente. Grazie a tutti.